Buonasera, abbiamo con noi Filippo Taddei, il responsabile economico del PD, al quale vogliamo chiedere. In Italia c'è voglia di rinascita, soprattutto dal punto di vista politico. Crede che le cose cambieranno sotto questo punto di vista? La voglia c'è, ma al di là dell'apparenza di rinnovamento, anche generazionale, quello che è sotto gli occhi di tutti, c'è soprattutto una determinazione nuova. Consapevole della gravità della situazione o se vogliamo dell'emergenza che abbiamo vissuto, usciamo dalla più lunga recessione, dal dopoguerra in avanti, adesso c'è anche l'esigenza e la voglia di ripartire. Quella voglia di ripartire che naturalmente non è solamente un afflato, un desiderio, ma è anche il desiderio di renderlo in concreti, attuali passi di governo. Stiamo affrontando con il PD, con il governo italiano, quelli che sono i problemi su cui discutiamo da anni innumerevoli. Da quando io ho cominciato a seguire la politica, subito dopo il liceo, immediatamente eravamo tutti dietro a discutere su come avremmo cambiato il nostro mercato del lavoro, su come cambiavamo il fisco per renderlo più al servizio di un paese che vuole cambiare rispetto a un paese spaventato dal futuro e quindi resistente. Ora è il momento in cui diamo corpo alle nostre promesse, diamo corpo ai nostri impegni perché in questo momento abbiamo gli strumenti e la possibilità per essere fedeli a quello che avevamo detto quando non eravamo responsabili, cioè non avevamo la possibilità di cambiare le cose. Volevamo anche chiederle, cosa vorrebbe dire a tutti quei giovani che stanno decidendo di emigrare all'estero in cerca di un lavoro e soprattutto che cosa gli augura? Che andare all'estero non è un problema, che vadano all'estero fiduciosi, ma che quello a cui stiamo lavorando è dargli una ragione per tornare indietro, non solo a loro, anche a quelli che in questo paese non sono mai tornati. Io non sono la persona giusta per parlare del fatto che bisogna rimanere nel proprio paese, a mia volta mi sono laureato, sono andato via e sono diventato adulto al di fuori dell'Italia, ho stato fuori sette anni, però ho avuto l'occasione per tornare, un'occasione di cui sono grato, che nasceva dall'intraprendenza di un paese che era in grado di offrire alcune opportunità. Ecco, vorrei che le opportunità non siano solamente alcune, solamente per qualcuno, ma che fossero molteplici, che siano varie, che siano diffuse, perché questo è il patrimonio di intelligenze, di persone che c'è là fuori, che c'è là fuori nel paese, che c'è là fuori di esso, da riattrarre. La cosa che noi siamo sempre in un paese, diciamo, ostaggio della paura, guarda sempre al fenomeno negativo, guarda sempre all'uscita, ma non si fa mai la domanda su come poter risolvere, come poter affrontare quell'uscita e come poter rispondere a quell'uscita pensando all'entrata, al rientro dell'intelligenza e dell'energia. Oggi noi stiamo facendo tutto questo, stiamo dando delle ragioni, ragioni che fino a ieri mancavano, magari erano presenti nella retorica, ma non erano presenti nella realtà, ragioni per tornare in questo paese e fare la scelta più coraggiosa, cioè impegnare il proprio futuro sull'Italia, decidere di costruire la propria vita e il proprio futuro qui e non altrove. Non vogliamo che sia un obbligo, perché non si è riusciti a scappare, vogliamo che sia una scelta, un'esposizione di libertà consapevole in cui si decide di scegliere questo luogo, di scegliere questo paese invece di tutti gli altri. Grazie per la sua disponibilità e noi la ringraziamo. Buonasera. Grazie a voi.